Il Comune di Alto Passo celebra uno degli autori più iconici ed importanti della storia della musica italiana con uno spettacolo in anteprima nazionale. Dalla La Storia, questo è il titolo dello show che ripercorre 50 anni di carriera del cantautore bolognese. L'evento, che alternerà l'esecuzione dal vivo di alcuni dei più grandi successi dell'artista a racconti video, immagini e narrazioni originali, è in calendario domenica 16 luglio alle 21.15 in Piazza Ricasoli. Il terzo capitolo della collaborazione tra il Comune di Alto Passo e la Stage 11 SRL e la Nove Muse. Una collaborazione che è stata proficua sia l'anno scorso in estate con Pink Floyd History sia ancora prima con lo spettacolo su Pino Daniele. In questo caso andiamo ad omaggiare uno dei più grandi cantautori della storia italiana e lo facciamo con uno spettacolo che è in anteprima nazionale. Un viaggio dai primi anni 60 fino al 2012 per un percorso alla scoperta del cantautore, del suo genio. Della sua vita è poetica e della potente influenza che ha esercitato sull'immaginario collettivo. Non soltanto è una storia musicale che accadrà sul palco, ripercorsa da una band che ripropone i pezzi di Dalla, ma anche attraverso proiezioni in modo da poter portare il pubblico all'interno non solo di quella che è stata la storia di Dalla, ma anche di quella che è la nostra storia personale, per cui anche il contesto che abbiamo vissuto negli ultimi 40 anni. Quindi è un modo anche per capire un po' di più dell'artista, oltre che ascoltare musica eccezionale.